L'Italia è stata lingua internazionale nel Rinascimento e nell'età moderna perché all'inizio la supremazia culturale dell'Italia era schiacciante. Pensate a quante opere di Shakespeare sono ambientate in Italia e tratte da novelle italiane. Cioè l'Italia era dappertutto, anche prima dell'invenzione dell'opera lirica per l'appunto, e comunque nel mondo musicale ha continuato a dominare fino al 7-800 l'Italia in ogni caso. Grazie a tutti.